Jack è un cagnolone di 9 anni circa, 8 anni circa, anche lui come tanti altri ha una storia un po' sfortunata, è stata una rinuncia come tante altre rinunce, è un cane molto affettuoso, molto bello, piace a tutti, tutti vogliono portarlo a passeggio, poi lui fuori gioca, viene anche lasciato libero perché è piuttosto obbediente come cane. Abbiamo visto che ama molto l'acqua, tuffarsi nei fossi, però poi nessuno lo porta a casa, quindi è qua che aspetta famiglia anche lui, servono informazioni come prima sui. Ma quanti anni ha Jack? Jack ha 8 anni, è arrivato qua con la mamma e con un cucciolo, lui aveva coperto la mamma, se non sbaglio. Poi i cuccioli sono stati presi, anche la sua compagna è stata adottata, lui è rimasto qua. E vedere che sei bellissimo. Quindi per adottarlo vale lo stesso discorso di Laika? Si, si viene a visitare, si compila il modulo di adozione, si indica il nome, ci sono diverse domande, anche dettagliate perché si vuole essere sicuri del tipo di alloggio che avrà e poi la Prassi vuole appunto anche la visita di Preaffido per vedere se la famiglia, il luogo sono idonee all'adozione per il cane. Si, quindi canile di Vigevano www.caniledivigevano.it Si. Per maggiori informazioni. Grazie, vi aspettiamo numerosi per le adozioni di questi cani che hanno bisogno del vostro affetto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a te, ciao. Ciao.